Rafa Benitez si prepara a guidare il rinnovato Napoli privo di Cavani e, a pochi giorni dalla partenza per il ritiro di Di Maro, si rivolge a tifosi partenopei in un video comparso sul sito ufficiale del club. Ragazzi, ci siamo. Finalmente si comincia. Ancora pochi dettagli. L'ultimo corso di sistemare e poi sabato la partenza. A Di Maro, nella splendida bal di sole, il 13 di luglio, comincerà la nostra e la vostra avventura. Sì, perché saremo fianco a fianco. Noi, con la nostra carica, con la nostra maurea di lottare, di dare sempre il massimo e voi, con il vostro amore che avete sempre regalato a questa squadra, a questi colori e a questa maglia. Siamo tutti insieme. La squadra ha grandi motivazioni. Il gruppo che salirà a Di Maro sarà carico, deciso a dare subito, non il solito 100%, ma molto di più. Un gruppo che si rafforzerà a mano a mano con nuovi innesti. Come sono carico io e il mio staff, tutti insieme non vediamo l'ora di indossare maghe e scarpette per sostenere il primo allenamento, i primi scatti, le prime partitele, il primo gol. Il Napoli c'è e voi con noi. Forza Napoli!